L'istituto comprensivo Trillini di Osimo in provincia di Ancona per il secondo anno ha partecipato a Ciaxi Gita. L'argomento trattato dagli alunni per questa ottava edizione è stato interessante perché i ragazzi hanno realizzato un cortometraggio di analisi e statistica sull'utilizzo tecnologico di internet da parte della popolazione italiana. L'Italia digitale, infatti, è il titolo scelto dagli alunni che, nonostante le cattive condizioni meteo, sono riusciti a concludere l'esperienza laboratoriale utilizzando la tecnica cinematografica del chroma key. Protagonista, com'è andata questa esperienza? Insomma, cioè, poteva andare meglio, cioè, le riprese sono state tante, la parte mia, perché tante cose non le ho ricordate, però è andata bene, è andata bene. La rifaresti questa esperienza? Sì, insieme a Gianni Petrizzo, che è un ottimo regista e comunque sì, la rifarei perché è divertente e creativo. Siamo qui invece con il prof Sansone, che ci ha accompagnato durante questa gita. A lei, prof, volevo semplicemente chiedere un'opinione su tutto il lavoro che abbiamo svolto. Siete stati davvero bravi, avete veramente fatto un bellissimo lavoro e sono molto fiero di voi, veramente. Si ritiene quindi soddisfatto? Moltissimo, moltissimo. Siete stati veramente bravi, veramente in gamba, non pensavo che veramente fosse così bravi. Diciamo che il tempo non ci ha voluto molto bene, però è una bella esperienza, veramente sono contenta di aver partecipato. È difficile registrare anche con i ragazzi che sbagliano quasi ogni registrazione. Diciamo che ci vuole molta pazienza, però poi alla fine, siccome i ragazzi sono in gamba e hanno bisogno di essere spronati, ci si riesce sempre. Magari si fa un piccolo ritardo, ma va bene comunque. È stata una bellissima esperienza per i ragazzi, a partire dalla videochiamata che abbiamo fatto in classe, che è stato il primo momento. E poi qui è stato bravo e paziente, abbiamo sopperito alle condizioni climatiche avverse e quindi devo dire che siamo soddisfatti. Grazie Gianni, un applauso! Un applauso Gianni! Grazie, grazie a voi! La vostra simpatia, la vostra attenzione, perché avete fatto davvero un buon lavoro, nonostante siete stati davvero tanti, perché in realtà dirigere, insomma lavorare con tante persone non è semplice. Invece con voi è stato davvero un gioco da ragazzi e poi la preparazione, insomma, davvero impeccabile. Grazie a voi e ci vediamo a settembre nella finale di Ciaxi Gita con il vostro cortometraggio in concorso.